Manuele e Gianmussona, tua fotografia è balzata agli onori della cronaca nazionale, di che cosa si tratta? Parliamo dell'albero? Eh sì, è una bella soddisfazione, sai, per l'amministrazione comunale, anche per noi della GELAS. Racconta, racconta, che foto era? La foto dell'albero, i cinque alberi più belli dell'anno nella giornata di ieri sera, TG2, se andate su streaming oppure su YouTube, Telegiornale di ieri sera delle 20 e 30, ci sono i cinque alberi più belli della giornata, d'Italia naturalmente, e c'è pure il nostro, tanto criticato, comunque complimenti alla GELAS e anche all'amministrazione che l'ha voluto. Beh, Manuele, bisogna dire che all'inizio, quando sono cominciati i lavori di allestimento dell'albero, c'è stata molta polemica, bisogna dirlo, soprattutto sui social network, invece poi il risultato è stato apprezzato dai più. E va bene, quando una cosa si inizia a costruire, ma è costruita, è normale che ci sono le cose negative, e poi alla fine però, quando il risvolto poi è positivo, la soddisfazione di tutta GELAS, non di o chi, o chi l'ha fatto, o chi l'ha pensato, ma di tutta GELAS, perché poi la cronaca va GELAS. Bene, Manuele, ora voi vi preparate anche, sì, facciamo un po' il bilancio dell'anno 2016, e questo è un po' una bella notizia, quella dell'albero, però voi a teatro state provvedendo per la chiusura dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo. Sì, noi già il 14 e 15 debuttiamo a Gagliano, in provincia di Enna, ma comunque, se vogliamo parlare dell'anno, è stato un anno bellissimo, pieno di soddisfazioni. soddisfazioni con Marco Abbate, che è stato l'anno scorso in questo periodo con Ghecco Zalone, e noi invece, io e Guglielmo, il 19 esordiremo in tutta l'Italia con il film L'ora legale di Ficarri Piccone. Anche quello fa parte dell'entusiasmo della compagnia, perché poi l'entusiasmo è per tutti, non solo per me, è per Guglielmo. E' stato un anno bellissimo, e a volte io penso che quello che si fa in teatro e quello che la compagnia produce per dare, lo vorrei vedere nella città di Gela, perché è l'impegno, l'impegno di 30 anni, 30 anni fa siamo nati, siamo cresciuti, e in 30 anni anche una città come Gela potrebbe dare molto di più. Io ci credo, ci ho sempre creduto, comunque è stato un anno magnifico per noi, e non buttiamo l'anno 2016, anche se ci sono cose negative, anche per la città, non si butta mai niente. Si fa sempre tesoro anche delle esperienze, dei momenti più brutti, affinché, insomma, possano nascere anche spunti di riflessione. Certo, questo dopo ogni dubbio. Io in questa intervista, che vi ringrazio Canale 10, auguro a tutti i telespettatori di Canale 10 un buon anno, un buon 2017, auguro un buon anno veramente a tutta la popolazione di Gela, a zone limitrofe, facciamo auguri a tutti, e che sia un anno veramente, veramente bello, e un anno pieno di soddisfazioni per tutti. Noi ci vediamo al cinema, e poi ci vediamo al teatro. Sì, sì, al cinema, anche perché abbiamo un bel film, dove c'è anche Giovanni Cacioppo, non ricordo il titolo in questo momento. Non c'è più religione. Non c'è più religione, sì, e la religione è una cosa bella. Buon anno a tutti, tante belle cose. Auguri. Auguri, auguri.